Le proposte ancora le dobbiamo elaborare, cercheremo di iniziarle a produrre stamattina in questa commissione che poi proseguirà con altri appuntamenti. Intanto possiamo già dire che la società Calcio Napoli non interverrà, ci ha mandato una nota il dottor Formisano che ha disdetto l'appuntamento per improrogabili impegni già presi precedentemente. Bisogna discutere, bisogna sposare delle sinergie che devono essere positive per la società e per i cittadini. Adesso aspettiamo anche qualche proposta del Presidente. Per la nuova convenzione sull'utilizzo dello Stadio San Paolo bisogna immaginare le forme contrattuali che regolino i rapporti fra Comune di Napoli e Società Sportiva Calcio Napoli attraverso l'interessamento del Consiglio Comunale. Lo stadio rientra nella categoria degli impianti di pubblico spettacolo e di intrattenimento e finora è stata ereditata la Convenzione del 2004 che prevede la concessione d'uso 24 ore prima dell'evento prevedendo alcune aree destinate a specifico uso esclusivo come il quadrangolo di gioco, l'area spogliatoi e la tribuna autorità, con conseguente onere a carico della società della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria di questi settori. Di recente il Comune ha contratto mutui di 25 milioni con il credito sportivo, ottenuti ora in quanto solo adesso i tempi obbligati del piano di rientro lo hanno consentito e serviranno per i 26 anni precedenti di mancata manutenzione che gravano sulla struttura. Ma ora vanno ripensati nel merito tutti i temi legati al rapporto fra Comune e Società, in cui contemperare esigenze come l'interesse pubblico all'uso dell'impianto da parte di cittadini e associazioni, la messa in sicurezza, l'eventuale gestione di spazi riservati, la durata, l'uso esclusivo, i trasporti e la pubblicità, oltre a temi risolti su cui c'è già dibattito aperto, come i prezzi cagnerati o la questione dei tornelli. Assolutamente ritengo che sia il percorso corretto quello di condividere con la Commissione Consigliare Sport permanente del Consiglio Comune di Napoli, che ci consente di elaborare sicuramente la migliore proposta convenzionale che andremo a sottoporre comunque in uno studio condiviso con la Società Sportiva Calcio Napoli. Ritengo che questa è una fase di avvio, di confronto, ascolteremo i consiglieri comunali, ascolteremo le varie istanze che verranno appunto dal Consiglio Comunale e soprattutto cercheremo di tenere dentro tutte le posizioni perché vogliamo elaborare la migliore convenzione possibile sia per il Comune ma anche per il Calcio Napoli.